Era il tempo della villa comunale, quello dei tempi del passeggio e che oggi non esiste più. Tutto si è fermato al giorno dopo il carnevale, quello passato ormai da quasi un mese. Basta guardare le peschiere per rendersi conto dello stato di degrado in cui versano gli spazi della villa. Per esempio, l'una delle due peschiere, nella Cormai Paludosa, galleggia di tutto. Dalle bombolette di schiuma e stelle filanti vuote a cartacce di ogni dimensione e coriandoli compresi. Per non parlare poi delle lattine di bibite dolci, ancora plastica, tanta plastica e per finire abiti di barboni gettati a terra. La seconda peschiera, per intenderci quella più vicina alla cattedrale di San Panfilo, invece di essere riempita di acqua e piena di rami secchi, foglie e pezzi di cemento deteriorati. Lungo il perimetro dell'ampia peschiera circolare, dalla cui colonna centrale intufo non zampilla più l'acqua che si riversava nella vasca sottostante, c'è pattume ovunque. Scatole di pizze d'asporto buttate dove capita, bottiglie e cartacce che delimitano tutto il percorso di quello che fino a qualche anno fa era il giardino della città e che da qualche mese è solo una discarica a cielo aperto, che spesso purtroppo si trasforma in una latrina per cani, per responsabilità dei loro padroni, che non puliscono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Non si incontra più nessuno lungo i viali che la costeggiano, se non ratti che hanno deciso di abitare in un luogo dove non vengono disturbati. E la Pasqua sta ormai per arrivare, la primavera almeno dal calendario è già arrivata. Ma ormai in questo paesotto, e nemmeno paese, non si capisce a cosa si pensi se non alle campagne elettorali. E il disappunto di molti sulmonesi cresce. Gli stessi sulmonesi che chiedono maggiori controlli per pulire i responsabili del degrado, ma che rivendicano a chi di dovere una maggiore tutela per uno degli spazi più rappresentativi della città di Sulmona e della città di Ovidio. In tanti non vogliono pensare alla villa comunale come annuncerà una volta e reclamano un intervento immediato e duraturo. Anche pensando al verde che giorno dopo giorno diventa sempre meno verde, sempre più inaridito, sfiorito e triste. Ma è questa la sulmona che vogliamo? Grazie. Grazie. Grazie.